Ariete, giornata anonima nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie inconvenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti. Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi le aspettative crescono, tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa in più. La situazione oggi è calma, siete pacati e particolarmente disponibili, ancorarsi alle piccole cose è rassicurante. Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere iniziative e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo, in quadratura al vostro segno, vi confonde, mandandovi in agitazione. Cancro, la luna si muove silenziosa a parlare oggi e il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tete-a-tete. Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi. Vergine, discreta e costruttiva, la luna nel toro vi garantisce una riserva di energie di tutto rispetto. Quanto basta per rincorrere desideri e aspettative, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia. Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi. Scorpione, vero che la luna è in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico venere rettuno che tifa per voi oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla capacità di persuasione. Sagittario, senza infamia e senza lode, la giornata che vi aspetta, c'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto. Tenendo duro e facendo ricorso a un'organizzazione capillare, riuscirete a venire a capo di tutto. Capricorno, il trigono lunare già basta garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte. Regalando emozioni e fantasia alla coppia, gli amici avranno un ruolo importante per voi in questa giornata. Confidatevi con loro, sarete capiti. Acquario, con la luna che rema contro siete un po' giù di tono. Forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Pesci, splendido sabato, protetto del vostro governatore Nettuno, in trigono a venere. Tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti di programma, con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.